Giorgio Ianni su ultime parcumò puntade dedicate alle nuove tecnologie che stanno cambiando le vite, vi dite sin tu proprio di Giorgio un sglavin di robes interessantes, lo vien formulato come i tabaiade, mandi Giorgio, dopo ti lascio libero per un po' di tempo, sempre dopo la puntata di voi, ci rendi di fare anche un po' un trucco di capisce che vi dite in queste puntate, le tecnologie cambia le vite, le cui calapore le tecnologie, le cui le dopre alle iperottimiste, io mi visi un'affermazione che diceva un ottimista e di sinistra, a tempo in d'ora era un cantautore che lo aveva buttato dentro, in tutte le sue canzoni, in di voi magari uno può dire anche il contrario, ma questo è chiaramente che fa parte dal gioco dei team, dunque le tecnologie, i cambiamenti, le possibilità di lavorare in chiesa, le televisioni che saranno una roba completamente ridifferente, ma d'altra parte le televisioni ci sono entrate in pratica nelle stesse chiesa, dagli anni 60 in Caio, una roba anche recente, questa formulazione di un natante, ecco che state, non varrì in poi i divos da spettacoli, gli inarrivabili, ci vuol dire una volta, gli insioms, ma non è che sarà un mondo così gris, ecco facendo un trucco finale, senza i mitos, le possibilità di far due cedute. No, 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 quelli ci saranno, solo che cambiando il supporto cambieranno il modo della rappresentazione con cui cerimoniali, miti, riti, leggende metropolitane, in che modo prendono corpo negli spazi mediatici, in realtà questo è sempre successo, che sia un cantore che gira per le piazze duemila anni fa o mille anni fa, ha le forme d'arte più recenti, c'è bisogno che in qualche modo le collettività mettano in scena dinanzi a se stesse la loro vita, in un teatro, penso all'Ottocento, questo accade, semplicemente accade su altri supporti. C'era una domanda interessante l'altro giorno, perché mi facevi l'altra volta, credo, che riguardava in che modo è possibile avere una certa lungimiranza nel dover anche pensare di dover modificare alcuni sistemi sociali, i produttivi, il lavoro. A me viene sempre da pensare una persona, un ragazzo di vent'anni nel 1905, mettiamo, che dice io voglio fare il maniscalco, quindi si occuparsi di cavalli, di ferro per gli zoccoli dei cavalli, del cuoio, delle selle, tutto quanto il mondo, mettiamo, che riguardi. E qualcuno in quel momento potrebbe dirgli, guarda che hanno inventato il motore a combustione interna, fino all'Ottocento, hanno inventato le automobili che tu ti metti in questo momento a fare il maniscalco, potrebbe correre dei rischi, visto che domani qui saranno tutte quante automobili. Il problema è come rispondeva quella persona lì, o diceva sei matto, non ci saranno mai tante automobili, e invece... E' un time cast dal dia, non stai... No, allora il problema è, in questo momento qui, sì che sta cambiando il mondo, stiamo passando dal cavallo all'automobile, stiamo passando dalla comunicazione mediata dai grandi gruppi industriali dell'informazione, ad esempio, auditoriali, cinematografici o culturali, alla possibilità, ed è quello che tutti quanti, questa è puntata, abbiamo detto, quella grande giravolta che ha fatto la comunicazione e i luoghi di comunicazione, che è permettere agli utenti, ai consumatori, di diventare in prima persona produttori di contenuto. Ma non è che dopo, come che le succedute, le musiche si riesce di banalizzare tutte, perché te, te, ad esempio, non sei di YouTube, nulla che tu, c'è un po' di registrarsi di chiamere, di MySpace, di due che altri, se sì, se in due che si può metti le musiche che la mia è così liquide, che ogni tanto si vedono anche le sforme sdonde, per favore io di che le aldi puoi... Sì, sì, sì. Cioè, che l'insun di diventa a qualcuno, al diventa un noi, è perché che è starisi a lei, eh, comunque. Sì, però ci sono... Se facciamo come quelli della cultura 1.0, cioè non questi, della cultura 2.0, cioè sociale, partecipativa, andremo a cercare delle scale di valore con cui poter individuare la qualità di quello che ci viene proposto. Ora, fino a ieri, il fatto che un autore, uno scrittore pubblicasse con quell'editore in audio, Feltrinelli o Garzandi, non so, quello che volete, mi dava una certa garanzia a me come compratore, del fatto, della qualità di quell'oggetto culturale, di quel libro. Perché? Perché la casa editrice dietro faceva in qualche modo da garante un nome, una personalità, c'era un'intera cultura, un'intera industria culturale organizzata a selezionare e far emergere alcune cose. Tu dici, al mondo d'oggi, chiunque può produrre il suo nella sua cameretta, parliamo di sia di televisione, di audiovideo, di film, di scrittura, di libri, di musica, come fa poi ad emergere qualcosa che valga la pena? Qua bisogna affrontare il problema con l'ottica che questo web moderno, questo mondo della comunicazione moderno ci sta insegnando, cioè una visione più sistemica e più ecologica, mi verrebbe da dire. Ecologica e cioè la visione ecologica? Ecologica vuol dire la capacità di percepire tutto quanto questo calderone di persone che parlano, producono, scrivono e fanno le fotografie e tutto quanto viene riversato online, ma quello che arriva online è sempre possibile che venga sottoposto a un commento. Quindi non è, è una socialità che costituisce il primo filtro per la bontà o meno di questa cosa, senza ricorrere a derive populiste. Ma se un video viene messo su YouTube, mi viene in mente quella signora di 60 anni che ha vinto il British Got Talent, quella signora che sembrava che non potesse certamente cantare, era una gara, la gara, il concorso canoro. Allora un concorso che chi l'ha vinto? Aperto bocca, questo signore cantava meravigliosamente bene. Beh, il suo video messo su YouTube l'hanno visto, non so cosa dire, 500.000 persone in due ore, non so non importa il numero, però una cosa spropositata. Ora, potrebbe essere una sciocchezza, questo è vero, potrebbe essere che 500.000 persone prendono una cantonata e... Dopo lo abbandoni, dopo due dì. Sì, va bene, e mettono, perché YouTube è uno strumento sociale in quanto permette la valutazione, ci sono sotto le stelline, i commenti e così via. O tutti quanti questi qua prendono una cantonata, oppure effettivamente quelle cose che nel calderone mediatico gigantesco della rete, non importa che sia locale o mondiale, una notizia di Los Angeles oppure di Pagnacco, a un certo punto qualcosa acquista quella che gli americani chiamano una spreadability, cioè la sua capacità di poter essere diffusa in giro, spalmata in giro. Se una cosa assume una sua capacità culturale di essere spalmata in giro, viene likeata su Facebook, viene condivisa ulteriormente, evidentemente è qualcosa che in sé ha qualcosa da raccontare. Questo vuol dire che tutti quanti i modelli di narrazione anche, che noi utilizziamo nella cultura nostra occidentale del Novecento, vanno rivisti alla luce di questo. Non è più un'autorità, un'autoritas, una casa editoriale, una televisione che ci dice cos'è che vale la pena guardare, motivandocelo in vario modo secondo la qualità di quell'oggetto culturale, ma è direttamente tutta l'audience, tutta la platea, l'insieme, e parliamo di milioni e milioni e milioni di persone, che tutti insieme, nella loro pratiche continue di mi piace, non mi piace, questo lo ho inoltre, questo lo scrivo, questo lo metto da un'altra parte, questo lo segnala qualcuno, tutto questo grande calderone di cose pian piano farà emergere forme nuove della cultura. Questo vassoietto con lo schermo, come l'iPhone, solo grande come un vassoio, dicevamo, però con lo schermo touch è molto simpatico, che tra l'altro, tra parentesi, è un oggetto di design che cambia completamente il significato, la semantica degli spazi sociali. Se tu hai uno di questi qui appoggiato sul tavolino in salotto davanti al televisore, lui diventa uno degli attori della situazione, perché è sempre presente, sempre connesso, stai guardando un film, devi guardare il regista, non è che devi aprire un portatile, hai un oggetto che è connesso con cui guardi chi è il regista. Comunque, per rientrare, tutti questi oggetti sono dispositivi che permettono una fruizione, dal punto di vista dell'utente, un'organizzazione, una fruizione dei flussi informativi che ad esempio mi arrivano. Si diceva prima, posso seguire alcuni blog tematici che io ho scelto, per la tematica loro, o per la qualità di chi ci scrive sopra. Posso scegliere alcune testate giornalistiche e di quelle ufficiali, Corriere.it, Repubblica, i giornali che sono con una... Però, insomma, se uno ha messo i continui, ha piaciuto il team. Se uno ha messo i continui, ha piaciuto anche il team. Allora, si può vedere anche, però bisogna gestire, bisogna lavare le cose, è un mondo complicato anche di tante persone singole, che hanno detto, e si può fare e non fare, ecco. È diventato un po' incasinato, ma è facile, insomma. È chiaro che io faccio la vocale del dialogo, faccio il lavoro qui, ecco. Certo, però, appunto, io ho fiducia nel fatto che la qualità possa emergere. Domani un ragazzo di 16 anni apre un blog a Udine e comincia a parlare della situazione politica udinese, o della semplice... della vita cittadina, o quello che vuole. Beh, che anche alfevele di Pettensale è il perbenista in DDU, ma non ha sempre le stesse fortune. No, 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 parlo proprio di un ragazzo che però è, come si dice, un giornalista in erba, quello che si chiama citizen journalism, cioè un giornalismo cittadino e lui, certo, non è poi che può pretendere di essere subito remunerato per il suo lavoro, ma dopo un anno che scrive una cosa alla settimana, quindi scrive 52 piccoli articoli o piccoli saggi, sicuramente verrà notato, perché le persone cominceranno, come si diceva prima, a segnalarlo, a inoltrare il link, a condividerlo sui social network e così via. Col tempo lui potrebbe costruirsi una carriera. Qual è il problema? Che i giornali morivano anche senza internet, perché il funzionamento stesso economico del giornale non sta in piedi da solo. Il costo della carta, il costo delle macchine, il costo della struttura industriale, l'organizzazione lavorativa che sta dietro alla produzione di un giornale non riesce a stare in piedi da sola con il numero di copie di giornali che si vendono in Italia oggi, che è vergognosamente basso. Forse in Giappone o in certi stati in cui leggono molto di più è possibile per i giornali stare in piedi da soli, altrimenti c'è il discorso delle sovvenzioni statali per la stampa libera e questo e quell'altro, che però ovviamente, parliamo veramente di politica, è chiaramente un'arma a doppio taglio, come si dice, una possibile ricattabilità dei giornali, come vediamo alcuni essere schierati, che a quel punto però a causa dei finanziamenti sono, tra virgolette, costretti a parlare di alcune cose e non di altre. in Italia non si legge, non si leggono i giornali, non si leggono i libri, il costo non è tanto una variabile da tenere subito in considerazione, perché appunto ci sono stati dove i giornali costano, eppure le comportamenti delle persone vuol dire prendere il giornale una volta ogni due giorni, per dire un paio di quotidiani, e sarebbe ben diversa la questione. Se il modello culturale con cui si pensa l'industria editoriale del 2010 non è diverso da quello con cui veniva pensata il mondo della carta stampata del 1950, del 1980, del 2000, queste aziende, l'intera industria della cultura editoriale, sarà costretta a cadere, a morire, oppure, come già si diceva, come la canzone, imparare a cambiare per non morire. E deve farlo, poco da fare. E poi io fa un'affermazione che magari mi provocherà qualche incazzatura di qualche dunque. Per se non può dire se io sei un filosofo, un calaone cognoscente di filosofie, di storie e di informatica a queste stime, per se non può dire se sei il filosofo dal futuro, cioè non arrivi a capire, lo sento al 2010, secondo te? Una visione culturale sbagliata, ti posso raccontare un piccolo aneddoto però che racconto sempre, Erasmo da Rotterdam è stato praticamente il primo a vendere best seller in Europa, perché a un certo punto lui scriveva gli adagi, scriveva i proverbi latini, li pubblicava però a fine 400, ancora a mano. Cosa ha fatto quest'uomo che era un uomo, un umanista classico, da conventi e libri manoscritti? È andato a Venezia da Manuzio, cioè una delle prime stamperie europee e ci è rimasto un paio d'anni per capire quell'arte, quella tecnica che è tutto quanto il lavoro dello stampatore, la pressa, l'inchiostro, i caratteri, cioè è nato giù come oggi una persona che si occupa di cultura digitale ad esempio dovrebbe andare a guardare come funzionano gli ebook, gli ebook reader, il web, i luoghi di pubblicazione, il sistema di pubblicazione, perché? Perché deve cercare di capire in che modo lui può rendere a meglio quel supporto. Erasmo doveva capire questo oggetto nuovo che era il libro stampato, che avrebbe cambiato la storia del pensiero dell'umanità. Un intellettuale di oggi, qualunque cosa voglia fare, non può non provare a farsi due domande su quali sono i supporti della conoscenza oggi nel mondo che viviamo. Ed è Erasmo da Rotterdam, alca la cambiata al monte. Grazie a Giorgio Yannis, noi vi dato questo fruccio di cambiamento, speriamo di vestiti in questi ascoltatori, in questi cutuardi puntati che vi ho impartato in denan, che non sono assolutamente ripocchi. Mandi a Giorgio Yannis e speriamo di tornare a tassi con anche tutti i giorni che sbandi. Volentieri, ciao. Grazie, mandi, buone giornate.